La nostra madrina, Doretta Dracqueen, che quest'anno è vestita tutta di archipaleno. Perché sei qui, Doretta? Doretta Dracqueen! E che dire, noi tutte le sere, con queste maschere che portiamo a tosto, cerchiamo di regalare un sorriso e proprio attraverso il sorriso cerchiamo di portare un messaggio a tutto il pubblico che ci segue e che ci ama. Però noi cerchiamo di ricordare sempre, al termine di ogni spettacolo, di ogni show, di ogni cabaret, che al di là della maschera che noi indossiamo per farvi ridere, ci sono delle persone che vogliono, che esigono e che pretendono gli stessi diritti di tutti quanti. Quindi, ogni messaggio deve arrivare al cuore in tutti i cittadini che ci guardano, mai con disprezzo, mai con giudizio, ma sempre con l'ammirazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!